Come nasce questo progetto che tu patrocini con tanta forza e su cui stai lavorando con particolare impegno? Semplicemente nasce dal mio ruolo universitario, come tu dicevi. Sono 15 anni che insegno in molte università italiane e in particolare al Soroslo e Benincasa di Napoli tutto ciò che ha a che fare con la comunicazione video. Di volta in volta il giornalismo televisivo, pure il documentarismo, pure il reportage e bisogna assolutamente che le nuove leve italiane sappiano cosa succede nel mondo, quali sono i percorsi che non sono solo culturali o creativi, su questo gli italiani sono abbastanza autonomi, preparati, hanno una bellissima storia, ma industriali, perché se non si capisce che il cinema è anche un'industria, che la cultura è anche un'industria, non si riescono a creare opportunità, finanziamenti, posti di lavoro. Una delle differenze fondamentali tra il cinema italiano e quello americano è appunto questa parziale indipendenza del regista rispetto al ruolo della produzione. Sai che in America, lo insegni, quindi sai che in America in effetti le tre scritture vengono profondamente influenzate poi dal ruolo della produzione. Ci spostiamo verso un sistema, secondo te, che privilegierà sempre di più la produzione, quindi la mano pesante finale di chi ci mette le risorse? Io spero di sì, perché in America, grazie a questo sistema, vivono di cinema decine o centinaia di migliaia di persone e sulla base di un prodotto medio-industriale standard ogni tanto esce il capolavoro. In Italia invece si punta tutti a fare il capolavoro che praticamente non esce mai e quando esce è soltanto una citazione del nostro glorioso passato. E quindi bisogna un attimo avere il coraggio di dire benvenga la mano del produttore se mi consente di fare un lavoro che produce lavoro per tanti, scusate il gioco di parole, e poi le risorse per tentare il capolavoro.